Buongiorno classe, e in questo video volevo riflettere su una frase che mi ha fatto molto pensare di un capo indiano quando i conquistatori occidentali li avevano portato via tutto. Lui arrendendosi gli disse ok, noi abbiamo perso, però ricordatevi questo. Quando avrete distrutto tutti i fiumi, quando avrete abbattuto tutte le foreste, quando avete sterminato tutti gli animali, vi accorgerete che il denaro non si può mangiare. Adesso ai tempi moderni sembra molto attuale, considerate che cos'era nel 1800, questo capo indiano è passato per un povero scemo. E' il motivo per cui oggi ci troviamo in questa condizione probabilmente di pianeta all'orlo del disastro. E purtroppo molti non hanno ancora capito questa questione, anzi dicono vabbè ma quello è un capo indiano, un povero selvaggio, chi se ne frega. D'altra parte la scienza va avanti, che è vero, la scienza va avanti, ma la scienza non ha come compito risanare il pianeta, la scienza ha come compito trovare delle spiegazioni. Se poi queste spiegazioni vengono usate per un oggeggio che ci fa fare un po' di soldi e che inquina in una maniera pazzesca, o per salvare il pianeta, quello sta a noi. E spesso noi scegliamo la prima ipotesi.